Responsabile della struttura che ha seguito passo passo i lavori, che è stato a contatto con le imprese che hanno seguito anche i lavori. Parliamo di Moreno Magrini. Quali sono stati gli interventi più importanti che sono stati eseguiti? Hanno riguardato l'impianto dell'ariazione, quindi quello che riguarda il riscaldamento dell'impianto. Tutta la parte degli spogliatoi, docce, sono stati tutti rimessi a nuovo. Abbiamo rifatto tutte le vasche, quindi rivestite, risanate, messe anche a norma rispetto alla nuova normativa che entrerà in vigore. E' stato fatto tutti i muretti a sfioro. Nelle due vasche, quindi la baby e la didattica, sono stati fatti gli sfiori sulla parte rotonda, quindi anche queste sono state messe a norma. E' stato rinnovato tutto l'impianto di filtrazione delle acque, quindi anche queste sono state cambiate le pompe, filtri. Siamo intervenuti anche sulla parte strutturale, quindi tetto, abbiamo rifatto tutta l'imbiancatura del piano vasca. E allora come dire, preparare il costume e l'accappatoio perché le attività sono pronte, noi siamo con il responsabile Tommaso Cioni. Primo tuffo in piscina nel nuovo centro del nuoto a Montevarchi, domenica 9 marzo a partire dalle ore 16 e sarà opportuno anche segnarsi ai corsi, la reception è già attiva? La reception è già attiva e si possono iscrivere chiunque e colgo l'occasione anche per dire che fino al 31 marzo ci sarà una promozione del 10% sui corsi nuoto adulti, bimbi e nuoto libero.